Mi ricordo che i nostri amici sono da Ferrara, hanno anche sede all'olivo, per coloro che non conoscono questi tipi di specialità, mi ricordo che nel Caraimico c'è la baciata, il merengue, il mango, la salsa portoricana, e loro faranno vedere qualcosa che ultimamente nel Caraimico si sta un po' trasformando, che è appunto la baciata e l'antinasso, che è questo che vedremo poi in questo momento. Signori, a voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!